L'importanza dei corsi Stiamo parlando di metodiche per lo più di origine anglosassone, americane e inglese in cui consiste di fare formare senza rischio cioè la simulazione permette di simulare un caso clinico assolutamente fuori dal rischio cioè cercare di fare ricreare uno scenario quanto più vicino possibile in maniera tale da operare, fare le procedure diagnostico-terapeutiche in tranquillità ma sempre con lo stress che è l'emergenza del caso di rianimare un bambino che così piccolo già di per sé scuote la nostra professionalità. Grazie